musica 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 bella raga oggi continuiamo con i nostri video di minecraft e siamo in un nuovo survival game nella mappa avarissia con l'omino dal mcdonald tanto mori tequillo eh no poverino allora che è più nable minion o l'omino il minion musica sicuramente ma che ca citone mannaggia teo oh cavolo minion ti odio mannaggia voi eh dai ma quando è che muori l'omino del mcdonald ah ecco cinque punti mannaggia ecco uno mi ha colpito nooo aia lascerò dietro che cavolo ma perchè mi vuoi chillare che senso ha guardate una spada una spada in qualcosa guarda tutto questo ciosti belle che ci sono prova ad aprirli guarda guarda prova a vedere se ci sono cose belle ok ok nooo guarda quanta gente c'è guarda vieni killa li killa li please qualcuno ha anche preso danno ok accidenti ecco ecco speriamo che sia piena peccato nooo queste ceste non sono granché quando vedo nomi scappo perchè non sono messo bene ecco ecco quella anche volevo aprire si stanno inseguendo adesso appena guarda se mi vogliono inseguire un altro ok no non mi vogliono inseguire nemmeno mi shifto probabilmente saranno tutte vuote hai che vorrebbe dire non lo so ma fapponi tedeschi quello che è tedeschi giapponesi una freccia altre frecce ehi ehi bro vabbè perchè lago tell me tell me no son cresciato che togo no son cresciato che togo non ma no è cresciuto il server 318 ok non mi ha tolto punti ottimo e dai mannaggia oh ah è offline ma perchè cavolo vediamo oh vediamo mannaggia oh mannaggia ok stiamo per iniziare nella mappa demon's bridge eeeh speriamo che adesso non crashi il server eh si speriamo che non crashi anche adesso mi sembra che sia sulla buona strada ah no c'è anche el no e a e always quello l'ho maffianca il mio quello che ho chillato nella mappa di prima lol yeah lol che scrivevo in polacco giappone no non è giapponese credo sia polacco no ma vieni ma vieni yes yeah ah l'ho buttato giù si mi sa proprio di averlo buttato giù ci sono altri fa per qua ma chi lo io fa per adesso c'è qualcuno che desidera morire oddio io sopra morire per danno da caduta ecco c'è questo qua bella zio adesso ti killo bro non salire lì che poi devo perdere tempo eh ok bella sua roba ecco 77 punti fa per con molti punti bro ah no ah ho quelli in ferro mua non mi servono a niente mua eh ah andiamo lì dal quarzo che ho visto allora adesso che ho scoperto dal quarzo andiamolo adesso che ho scoperto come poter ricevere la spada in ferro inciantata con smite 5 che è inutile perchè smite funziona sugli zombie ma è una spada in ferro e quindi eh i like iron sword la cesta la cesta nemmeno mi fermo ad aprirla cioè sono messo così bene che non è che mi interessa tanto e quello si invece mi interessa dove stanno andando? è un fapore che è andato da dietro adesso vediamo se ci casca dopo cerco il modo di Fappone non ci casco sei un super fapper over power fapper over power muori THX bro grazie dodici punti Fappone voleva fregarmi eh non mi freghi lo sai vero? credo che l'abbia capito due male d'oro mangiarne una prima di iniziare no vero? mamma mia quanto sono fattori ho mangiato una adesso com'è che si faceva? c'era una cosa qua che da qua esce una specie di qua dietro c'è un dispenser che sputa una spada in ferro ah boh c'è una cesta qua apriamola magari senza perdere i due cori niente di che andiamo da questo oh cavolo sta per morire anche io perchè ho iniziato la battaglia non lo so perchè sto per morire però boh dovrei avere anche regeneration ancora non c'è nessuno qui vicino vero? ottimo allora cosa aveva di bello? niente bracciarino me lo posso fare arco arco ecco poi aveva dei pantaloni no crota d'oro pondi via ah si come lo posso fare mi faccio un acciarino anche se ah si è giusto non è che serva molto visto che era mappa fiamma però allora via 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 ma si la barca è inutile e e questo andiamo in giro eh andiamo a killare gente ah prima vorrei prendere questa cesta che non c'è più what the f c'è più vabbè prendo questo un altro lingotto un altro lingotto andiamo a farci no lingotto che avevo l'ho perso deathmatch 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 e la lava visto che non possiamo risalire anche se c'è l'acqua ma certo la barca la potevo usare qua per fuori il figo che non si può nemmeno piazzare uff uff dai no non voglio andare in giro però ho paura di cadere in the lava proprio prima dell'inizio del deathmatch 5 4 3 2 1 spriamo c'è splayed in oro ah quel oddio no la mena d'oro devo mangiare ah ha preso a me quel fabere oh cavolo mi vogliono killare cosa uso la mela d'oro ma sono cretino o fabbo molto vai killatevi non siete un t vero si ma come cavolo fate vai 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 rambo 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 vai team ah ah please ah non ah 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 ah